Razz Degan nuovo concorrente dell'isola dei famosi L'ex naufrago Razz Degan torna all'isola dei famosi Stando a delle voci riportate da vari siti di gossip, due nuovi concorrenti starebbero per sbarcare sull'isola Inoltre si dice che Razz Degan, il vincitore dell'ultima edizione delle reality, sia stato avvistato nei corridoi della produzione del programma Secondo alcuni l'uomo che non deve chiedere mai potrebbe ritornare nel format con un ruolo inedito Potrebbe interessarti anche, dove e quando vedere i day time e le repliche dell'isola dei famosi 2018 Le domande, che sforgono spontanee sono tante Per esempio, perché inserire due nuovi concorrenti dopo Elena Morari e Simone Barbato? C'è chi collega la cosa ad una possibile espulsione di Francesco Monte dopo il polverone sollevato dall'ex concorrente Avenger Ovviamente sono solo voci di corridoio, dato che la questione non è ancora stata chiarita e non si conosce il risponso della produzione Mediaset Domani sera su canale 5 scopriremo insieme tutte le novità nella terza puntata dell'isola dei famosi Grazie a tutti Grazie a tutti